Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con Rocket League siamo allora direi di fare una partita della stagione avevamo provato nell'ultima volta l'online nell'online laggava come se non ci fossero domani poi lo riproveremo comunque adesso farei una cosa però alla stagione andrei a modificare la difficoltà perché avevamo messo principiante per provare cioè principiante pro all star e basta vabbè lasciamo pro vediamo un po' cosa riusciamo a fare per il resto ragazzi vi dico che adesso vabbè ci facciamo una partita veloce giusto per fare un videozzo così abusivo e poi lo proseguiremo sul secondo canale questo gioco quindi mi raccomando iscrivetevi anche al secondo canale che trovate nella home e un po' comunque quel taleale games e lo proseguiremo lì sia all'online che il singolo primo attenzione attenzione viper e di te attenzione colpo di cappello siamo sotto le stelle tra l'altro attenzione doppio passaggio al volo di viper eminzino cappellino attenzione contropiede contropiede ma ci siamo impallati un po' vai boomer al centro al centro aspettate d'esterno non è vero risciata da panico aspettate ma vaffanculo ma che cazzo ha fatto autogol quei rincoglioniti io ho fatto gol con aum no aspettate è stato chi è stato che ha fatto autogol guarda caveman che figlio di troia io ho fatto gol con quello vabbè ma porca troia il problema non è l'abilità degli avversari quanto la scarsezza attenzione la scarsezza dei nostri giocatori guarda sto figlio di caveman attenzione mi sono cappottato un momento attenzione hanno salvato e la ributtiamo al centro guarda che cross attenzione derapa no derapiamo troppo no attenzione contropiede caveman attenzione caveman mannaggia la puttana di Eva aspettate mi metto un po' più in là no guarda là mi ha fatto il sombrero mamma mia e questo ha fatto un collone però eh mi ero piazzato guarda là tacchete mamma mia che figlio di troia eh vabbè stanno a rompere il culo comunque ce la facciamo a prendere una volta la palla di esterno non è vero primo tocco però siamo solamente volati in aria attenzione caveman batte un affanculo attenzione la butto ma perché quei due si stanno sfragellando da soli dalla qui che aspettate aspettate il contropiede quanto cazzo aspettate non so più dove devo andare è lì la porta non lo so buttatela qui grandissimo aspetta guarda che tutti si buttano al centro aspetta l'hanno spazzata dov'è attenzione mamma mia che botta dalla distanza aspettate io rimango qua in attesa guardalo là è che non lo sapevo che la ritirava qua per questo mi sono messo in attesa per fare una cazzata aspetta mamma mia ho spazzato perché quello già stava entrando in porta attenzione non vedo niente dalla qui boomer caveman mi raccomando sei tu in porta non è vero se ne va vaffanculo aspetta che l'ho ributtato al centro mamma mia grandissimo allora boomer è un cazzutissimo giocatore e caveman è un figlio di nulla attenzione caveman caveman la palla grande così non si incazzi caveman ma siamo guarda che figli di tro io sto cercando di non saltare troppo abusivamente attenzione la butto al centro no e bacca puttana attenzione che ha spazzato alla distanza mamma mia liscio guarda questi che cazzo tanna combina aspetta no attenzione traversa aspetta che c'era il contropiede no caveman tu mi preoccupi dai che l'abbiamo allontanata ci ha dato anche il punteggione boomer boom no non va boomer non va aspettate rimaniamo un po' dalla distanza perché questi mo spazza necca alla aspetta boomer è mia attenzione di rimbalzo aspetta che chiedo l'uno o due l'uno o due non è vero che cazzo sta succede e togliti dov'è dove siamo mamma mia gliel'ho toltata da sotto il cofano dai che così ripartiamo togliti dai coglioni attenzione panico panico no comincia a succedere un magesto per vomitare tra l'altro vai così vai così aspettalo di mamma mia grandissimo grande così di esterno la ripartenza da panico siamo insinuati guardala che colpo di esterno dai così subito subito mamma mia primo tocco però è rimbalzato dall'altro lato attenzione spazzala grande così guarda questi come si insinuano no mamma mia di tocco grandissimo l'uno o due attenzione abbiamo chiesto vai boomer grande così aspetta rovescia di tacco mamma mia ma no boomer l'ho segnato io ma scusate no io voglio rivedere boomer ha tirato così però io là ci ho messo no ah me l'ha tolta quel figlio di puttana vabbè va bene un pareggio attenzione attenzione mamma mia sì là è meglio saltare perché se siamo un po' in ritardo almeno gliela togliamo buttala dentro game man un po' più dentro aspetta vado un po' indietro a cazzo cazzo guarda qui vedo un cazzo game man mi scusi no ma aspetti no e vacca puttana mi si è incastrato il cappello scusate no vabbè ho fatto un leggerissimo autogol ma vacca di una grande botta puttana andiamo andiamo attenzione no no eh ma che cos'è ma scusate ma perché queste cose però ho fatto un gollone quasi rovesciata eh guardalo lì sì però io che chiedevo l'uno o due ma abbiate pazienza da chi allora aspetta secondo me il problema è qua contro caveman forse anche io un pochino attenzione spazzata da panico dai che possiamo ancora farci guarda là cazzo dove cazzo e vaffanculo non la ributtate al centro e la puttana di eva ci hanno rotto il culo oddio diciamo due gol li ho fatti io però ho sbagliato un po' porta forse è stato quello che mi ha inculato un po' mamma mia panico vai butta la boomer boomer però caveman abbiamo perso malamente proprio allora aspetta no dobbiamo farcene un'altra dobbiamo farcene un'altra perché qua dobbiamo abbiamo sbloccato un'altra auto no ma io mi trovo bene col mio gp cioè mi trovo bene una parola grossa se vogliamo aspettate vabbè si giochiamo la prossima partita di questi gran cazzi diciamo che c'è un problema un po' di tecnico tattica qui direi che è stato un po' una partita così però comunque vi ripeto ragazzi vi raccomando iscrivetevi anche al secondo canale che poi la proseguiremo lì la serie allora io rimango dietro boomer vai tu mi fido non lo sapevo io guardalla che spazzata da panico guarda che figlio di troia attenzione ributtatela ributtatela che mer che mer cazzo aspetta mamma eeeh vabbè ci eravamo buttati però sotto l'incrocio non abbiamo fatto in tempo avevamo capito la tecnica guarda là per un pelo non l'abbiamo parata vabbè adesso succede il devasto qua perché attenzione rissa cazzo di casino comunque prendere un attimo attenzione aspetta mamma mia abbiamo spazzato un pochino non so se l'abbiamo presa in realtà però va bene uguale diciamo che l'abbiamo presa e ce la stanno togliendo dai dal paraulti boomer boomer è un figlio di troia c'ero io di esterno aspetta che cazzo stiamo dalla al centro cosi guarda quel mamma ha spinto cazzo ma che gioco di squadra è mamma mia grandissimo game man però abbiamo fatto assist eh non ci avesse spinto quel figlio di una maiala aspettate esterno non è vero grandissimo game man aspetta aspetta che mi piazzo aspetta cazzo 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 puttana devo tirare più da esterno ma ho avuto problemi boomer che fa mi prende appallonate mi scusi attenzione a storm attenzione a storm la prendiamo noi di rimbalzo non è vero abbiamo liceo allora noi tempisticamente abbiamo dei leggerissimi aspetta a cazzo palo palo dalla qui contropiede eh vabbè il cazzo ci stanno prendendo appallonate di brutto eh dobbiamo un cazzo di tiro d'esterno aspetta secondo me noi dobbiamo partire dalla distanza attenzione vediamo game man cosa fa eccola qua eccola qua porca puttana ho provato la botta dalla distanza ma non è andata a buon fine cazzo lunghi vai game man spazza non qui è la nostra questa aspetta eh vacca troia mamma mia ci stanno a rompere il culo proprio rimango dietro guarda facciamo così andate voi tanto la la palla è sempre al centro rimane oh e adesso partiamo noi con la il contropiede aspetta che la ributto dentro ma non è vero perché non la prendo attenzione che cazzo game man puttana troia è fatta una faccua attenzione rischio rischio game man caputana ok forse la difficoltà da diciamo principiante a pro diventa un po' massiccia noi andiamo di contropiede aspetta aspetta game man aspetta si aspettiamo un po' l'azione attenzione così oh così dobbiamo fare le azioni da panico dobbiamo aspettare il momento giusto andate andate e la puttana troia aspetta cazzo cazzo attenzione parti col contropiede ma puttana troia c'è stata la macchina ma un po' troppo veloce attenzione aspettate aspettate lascia guarda che c'è la puttana di Eva aspetta e non spingete cazzo vai game man aspetta aspetta mamma mia è il colpo di fino grande così aspetta questo è il colpo proprio l'abbiamo lisciata un pochino guarda la zacchete con la ruota proprio di accelerata attenzione 3 a 4 andate sempre voi io mi preparo cazzo fatene a far culo che puttana troia mamma mia meno male che ha sbagliato meno male che ha sbagliato arrivarti il contropiede dalla così aspetta boomer grandissimo boomer aspetta no cazzo c'è stato un problema tecnico boomer grandissimo aspetta aspetta eccolo là no cazzo ma stiamo prendendo il palo come se non ci fossi domani vai game man attenzione game man che fa va in porta game man cazzo attenzione stiamo rischiando vai boomer aspetta rimaniamo un po' dalla distanza perchè quando la situazione è così concitata boomer al centro aspetta porca troia guarda che cross boomer ma guarda quell'altro andate a far culo attenzione rovesciata grande così al centro al centro e la madonna cazzo no troppo alta che caputana dai che è l'ultimo minuto no ho fatto un macello ho fatto catroia l'ho lisciata perchè volevo fare una cosa più di fino mi sono impantanato datela in contropiede vabbè ormai ci hanno rotto il culo game man bravissimo che cross tu togliti dal cazzo forse non vedo cazzo guarda che figlio di droia guarda affanculo grande boomer l'uno o due e vabbè me l'ha tolta da sotto i denti ecca là aspetta mamma mia di tacco punta no cazzo quello era un gollone vai che aia ma vaffanculo ma ci stanno rompendo il culo abbiamo sboccato dell'erba così scena di razzo equipaggiala subito allora noi abbiamo fatto i nostri puntoni solo che l'intelligenza artificiale va a bomba noi diciamo che remiamo un po' contro la nostra squadra in alcuni casi abbiamo dei piccoli problemi comunque ragazzi noi ci vediamo allora con i prossimi episodi con la nostra partitona con il nostro team un po' così un po' la cazzo di cane comunque mi raccomando voi seguendemi sul secondo canale per il campionato di Rocket League e ogni tanto ci faremo anche il multiplayer come detto vabbè ci vediamo ai prossimi episodi allora un saluto a tutti da Quel Taleale